Buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento quindicennale con questa trasmissione Il Punto di Giovanni Sneolin. Questa sera mi soffermerò, cosa è fare il punto? Il punto cerca di, in questi 15 giorni che ci incontriamo, cercherò di, secondo il mio punto di vista, ma anche se voi poi mandate dei suggerimenti o delle cose che volete affrontare a Radio Science, mi farebbe piacere dialogare con voi sui temi che io voglio trattare, sono i temi del lavoro, perché è l'argomento che mi interessa, del lavoro, dell'economia, che mi interesso da più di 40 anni. Oggi volevo affrontare un problema che tutti i giornali ne hanno parlato, in modo così, chi pietoso, chi scandalistico, chi poi spargendosi il capo di cenere, perché abbiamo fatto poco, per far sì che una vita di Michele, chi è Michele? Michele è un precario in pratica del lavoro, che è deluso da tutte le situazioni, si è suicidato. E allora i politici che dicono che i ragazzi sono dei ciusi, sono di quelli mammoni, eccetera, poi dicono, beh sì, in fondo dobbiamo fare qualcosa anche perché queste cose non succedano più. Ma io vorrei partire proprio leggendola, perché magari qualcuno in trasmissione non l'ha letta, questa lettera è apparsa sul Messaggero Veneto, è apparsa lunedì sul Messaggero Veneto e i genitori hanno voluto che venisse pubblicata, perché molte volte si sente dire che uno si è suicidato, ha lasciato dello scritto, però non si sa che cosa ha scritto. E io vi chiederei un po' di attenzione, perché sono parole molto precise, delle accuse molto pesanti e anche ci sconstanziate, cioè nel loro modo molto precise. E la diciamole. Ho vissuto male per trent'anni, qualcuno dirà che è troppo poco. Quel qualcuno non è in grado di stabilire quali sono i limiti di sopportazione, perché sono soggettivi, non oggettivi. Ho cercato di essere una brava persona, ho commesso molti errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse di fare del malessere un'arte. Ma le domande non finiscono mai e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di pormene, sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutile, stufo di preparare, sprecare sentimenti e desideri per altro genere, che evidentemente non ha bisogno di me. Stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata. Stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie. Stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità. Tutte balle. Se la sensibilità fosse davvero una grande qualità sarebbe oggetto di ricerca. Non lo è mai stata e mai lo sarà, perché questa è la realtà sbagliata. È una dimensione dove conta la praticità che non premia i talenti, le alternative. Sbefece le emizioni, insulta i sogni e qualunque cosa non si possa inquadrare nella cosiddetta normalità. Non la posso riconoscere come mia. Da questa realtà non si può pretendere niente. Non si può pretendere un lavoro. Non si può pretendere di essere amati. Non si possono pretendere riconoscimenti. Non si può pretendere di pretendere la sicurezza. Non si può pretendere un ambiente stabile. A quest'ultimo proposito, le cose per voi si metteranno talmente male che tra un po' non potrete pretendere nemmeno cibo, elettricità o acqua corrente, ma ovviamente non è più un mio problema. Il futuro sarà un disastro al cui non voglio assistere e nemmeno partecipare. Buona fortuna a chi se la sente di affrontarlo. Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato e nessuno mi può costringere a continuare a farne parte. È un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento e privo ormai anche di prospettive. Non ci sono le condizioni per impormi e io non ho i poteri e i mezzi per crearle. Non sono rappresentato da niente di ciò che vedo e non gli attribuisco nemmeno senso. Io non centro nulla con tutto questo. Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio che sarebbe dovuto o quello che spetta di diritto, cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai visto per avere il minimo possibile. Io non me ne faccio niente del minimo, volevo il massimo, ma il massimo non è a mia disposizione. Di no, come risposte, non si vive, di no si muore e non c'è mai stato posto cui per ciò che volevo, quindi in realtà, non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito da un'epoca che si permette di accantonare invece di accogliermi come sarebbe suo dovere fare. Lo stato generale delle cose per me è inaccettabile. Non intendo più farmene carico e penso che sia giusto che ogni tanto qualcuno ricordi a tutti che siamo liberi, che esiste l'alternativa al soffrire, smettere. Se vivere non può essere un piacere, allora non può nemmeno diventare un obbligo e io l'ho dimostrato. Mi rendo conto di fare del male e di darvi un enorme dolore, ma la mia rabbia ormai è tale che se non faccio questo finirà ancora peggio e di altro odio non c'è davvero bisogno. Sono entrato in questo mondo da persona libera e da persona libera ne sono uscito perché non mi piaceva nemmeno un po'. Basta con le ipocrisie. Non mi faccio ricattare dal fatto che è l'unico possibile. Io un modello unico non funziona. Siete voi che fate i conti con me, non io con voi. Io sono un anticonformista da sempre e ho il diritto di dire ciò che penso, di fare la mia scelta a qualsiasi costo. Non esiste niente che non si possa separare. La morte è solo lo strumento. Libero arbitrio obbedisce all'individuo, noi ai comodi degli altri. Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è. È solo delusione. Mi è passata la voglia con cui non qui e non ora non posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza sì. E il nulla assoluto è sempre meglio di un tutto dove non puoi essere felice facendo il tuo destino. Perdonatemi mamma e papà, se potete, ma ora sono di nuovo a casa. Sto bene. Dentro di me non c'è caos. Dentro di me c'era ordine. Questa generazione si vendica di un furto, il furto della felicità. Chiedo scusa a tutti i miei amici. Non odiatemi. Grazie per i bei momenti insieme. Siete tutti migliori di me. Questo non è un insulto alle mie origini, ma un'accusa di alto tradimento. La lettera finisce con un post scrittum e dice complimenti al ministro Poletti, lui sì che ci valorizza a noi stronzi. Ho resistito finché ho potuto. Bene, questa è la lettera in pratica di addio che Michele ha lasciato prima di fare il gesto di togliersi la vita. Però per quanto questo possa essere toccante e per quanto poi i politici si sono lavati la bocca o ho riempito i giornali, come leggevo sul messaggero, adesso faremo qualcosa. Non è possibile che il Friuli Venezia Giulia, perché il messaggero è il giornale del Friuli Venezia Giulia, l'1% dei giovani se ne sia andato dal Friuli Venezia Giulia, se ne sia andato all'estero a lavorare o a studiare. In pratica l'1% veniva fuori circa, non mi ricordo più quanti, ma è una città come Spilimbergo. No, non è la maniera giusta per risolvere il problema di questa società che non funziona. Questa società basata sul profitto, sull'individualismo, è la società che ci vuole atomizzati, ci vuole soli, non ci vuole che rivendichiamo il diritto di vivere. Perché a fronte di uno che si suicida per queste delusioni ci sono migliaia di persone che muoiono ogni anno, faccio l'esempio, sul lavoro. Nei dati dell'INAIL, nel 2015 siamo morti, perché anche io faccio parte della classe operaia, in 1246, equivale a 3,41 morti al giorno. Una strage, si può dire. Per non parlare degli invalidi, questo lavoro fatto in questo modo, dove il profitto regna e non si guarda la persona crea degli invalidi. e sono migliaia, migliaia di persone. Sono 1246, no 1246 sono morti, ma sono migliaia i lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro. Ma non solo, ma sul lavoro poi cosa succede? Succede un caso come viene riportato nel quotidiano il manifesto del 10 febbraio 2016, dove in un'azienda come la Fiat, l'ex Fiat, l'FCA, che viene esaltata anche dall'ex ministro Renzi, dove si impedisce alle persone di andare a fare pipì. Dopo aver più volte richiesto di poter recarsi in bagno per urgenti bisogni fisiologici e dopo che le sue sollecitazioni sono rimaste inascoltate, il malcalpitato si è visto costretto a urinarsi addosso. Bene, si è portato questo il caso e l'azienda dice, beh, adesso vedremo, ci è stato assicurato, questo dicono i sindacati, che il lavoratore coinvolto nella vicenda riceverà le sue scuse dovute e che saranno dotati i provvedimenti del caso. Ecco come siamo presi, siamo presi in questa condizione dove la valorizzazione del profitto porta a fare strage di persone, perché il centro di questa società è il denaro, il profitto, non è la specie, l'uomo. A fronte, e ci sarebbero tante cose da dire, ma non vorrei tediarvi perché sembra un sermone il mio, però voglio dire che a fronte di queste persone che non trovano lavoro abbiamo milioni di persone costrette all'inattività e milioni di persone costrette al super lavoro, persone che muoiono di lavoro e persone che muoiono alla ricerca di lavoro. Il 40% dei giovani in Italia sta cercando lavoro, non ha lavoro, non ci sono prospettive e nei ultimi contratti collettivi nazionali di lavoro non si chiede nemmeno un minuto di riduzione dell'orario di lavoro, perché tutto quello che viene chiesto, riduzione dell'orario di lavoro, il salario deve essere compatibile perché i prodotti dell'azienda per cui ognuno lavora, devono essere competitivi nei confronti dei prodotti delle altre aziende concorrenti, perché quindi noi ci mettiamo uno contro l'altro, cioè noi ultimi, noi che produciamo, non si produce quanto serve per la specie, ma quanto serve al proprio padrone per poter sconfiggere la concorrenza. Anche il salario per esempio di cittadinanza non è una soluzione, perché il salario di cittadinanza è un modo di dire vabbè ti do da sopravvivere perché tu possa, non ti possa ribellare, perché rimani lì in attesa che qualcuno venga a chiamarti, quindi veggiti il salario di cittadinanza può essere il primo passo sì per non morire di fame, se non mi date lavoro almeno datemi da vivere, però deve essere transitorio perché l'obiettivo è di cambiare questa società, l'obiettivo è di far sì che questa società metta al primo posto i bisogni dell'umanità, della specie e non del profitto che è una cosa, una convenzione sociale, come tutte le convenzioni sociali si possono cambiare e migliorare, perché una società dove c'è alla retroazione positiva, cioè retroazione N più 1, nel senso che quando io ho inserito 100 nel sistema di produzione deve uscirmi 101 e dal 101 deve fuori 102 alla fine del ciclo, è una cosa innaturale, in natura non esiste così, non si può andare avanti all'infinito, in natura per esempio c'è il bello che se io ti do un libro a te e tu dai un libro a me, abbiamo letto due libri, ci siamo acculturati tutti e due, il doppio, ma nel sistema di produzione capitalistico se io do 100 euro a te e tu dai 100 euro a me, non è cambiato niente, abbiamo tutti e due 100 euro e non ne abbiamo 101 o via dicendo, quindi è questo sistema che bisogna cambiare, se noi, e come è il sottoscritto, interessa che non succedano più questi fatti, bisogna iniziare a parlare fra di noi, a capire che questo sistema non funziona più e a trovare sistemi per farci sentire. Bene, io termino questa sera, ci risenteremo un mercoledì, ci risenteremo fra 15 giorni per un altro argomento, speriamo un po' più, diciamo migliore, meno triste ecco. A tutti vi ringrazio per l'ascolto e fra 14 giorni. Ciao a tutti.